Benvenuti a Lazio News, il vostro punto di riferimento per le ultime notizie sul calcio. Assicuratevi di un mi piace e iscrivervi al canale per restare aggiornati su tutte le novità riguardanti la Lazio. In una sorprendente svolta nel mercato dei trasferimenti, la Lazio sta considerando un'opportunità unica per rafforzare la propria difesa. Secondo le informazioni fornite da Gianluca Di Marzio, rinomato giornalista specializzato in calcio, il laterale portoghese Mario Rui, di 32 anni, avrebbe rifiutato il rinnovo del contratto con il Napoli. Il rifiuto del laterale portoghese di rinnovare il suo contratto con il Napoli porta un nuovo elemento alla scena dei trasferimenti, dato che la Lazio ora emerge come una potenziale destinazione per il giocatore. Mario Rui potrebbe essere un'alternativa solida per il ruolo di terzino sinistro, offrendo una competizione sana e un'esperienza preziosa alla rosa della Lazio. E tu, tifoso bianco celeste, pensi che Mario Rui sia un buon rinforzo per il ruolo di terzino? Lascia la tua opinione nei commenti, poiché è molto importante per la Lazio.